Siamo da Joby, questo piccolissimo oggetto ha dello spettacolare, lo presentano questa settimana, si tratta di un sorreggi reflex o compatto da appendere al proprio collo, andando ad azionare l'interruttore inferiore, lo andiamo ad accorciare e possiamo anche utilizzarlo come polsiera. È veramente eccezionale, è quasi incredibile che questi là ci riescano a leggere il peso di un reflex, ma effettivamente sono molto molto resistenti, vale la pena provarlo.